All'esterno un normale centro benessere che proponeva saune e massaggi, all'interno ragazze straniere venivano costrette dal titolare a prostituirsi. L'oreggia, lungo la nuova statale del Santo, dentro un centro commerciale, qui il circolo Spa Club 307 attirava decine e decine di clienti da tutto il Veneto. I carabinieri, dopo una lunga indagine, hanno arrestato per induzione e sfruttamento della prostituzione il titolare Alberto Mazon, 61enne di Castelfranco, Veneto. Le ragazze, tutte molto avvenenti, venivano reclutate attraverso falsi annunci di lavoro e poi costrette a prolungare le sedute di massaggio con prestazioni hot. Mazon, per non incorrere i rischi e perquisizioni, le metteva in guardia. Il titolare faceva difidare le ragazze da chi aveva questo accento meridionale perché associava questo accento all'appartenenza a forze di polizia e quindi disponeva che almeno ci fossero due o tre presenze prima di poter passare all'offerta del proprio corpo. Il 61enne Trevigiano aveva rilevato il centro benessere dalla figlia estetista e ne aveva fatto un circolo privato. I clienti, con la scusa di andare a fare la spesa al centro commerciale, vi entravano grazie ad una tessera da socio. Ogni ragazza veniva pagata circa 40 euro l'ora, un giro d'affari che fruttava al gestore anche 2000 euro a sera. L'indagine è partita da una delle ragazze straniere, sfruttate, stanca di essere molestata dal suo datore di lavoro. Da alcune dichiarazioni di persone che avevano chiesto di lavorare all'interno di questo centro benessere, ma poi all'interno si sono accorte che non era proprio un centro benessere come vuol dire la parola, ma appunto un centro dove veniva sfruttata la prostituzione.